Sessantanovesimo appuntamento con Siamo Europa, la finestra settimanale, ogni sabato in affari quotidiani per conoscere più da vicino gli eventi, le news e le opportunità dell'Unione Europea per i giovani, le imprese, per gli enti locali, per i professionisti, insomma per tutti e ci sono tante, davvero tante opportunità anche queste. Le città europee, tante città europee, sono in prima linea in una battaglia climatica scandita da eventi meteorologici estremi, incendi selvaggi, temperature estive di dimensioni senza precedenti che hanno devastato l'Unione Europea quest'estate, le gravi inondazioni che hanno nuovamente distrutto vita, ma in tutti i sensi in tutta Europa le città stanno affrontando calamità sempre più frequenti che danneggiano i cittadini e colpiscono duramente le economie locali, in tutta Europa si sta già sperimentando una transizione climatica ed energetica che può davvero dare risposte che si tratti di comunità energetiche, di soluzioni basate sulla natura, di energie rinnovabili, decentralizzate, di acquisti rispettosi del clima, di ristrutturazioni profonde o di infrastrutture per la mobilità sostenibile. Gli esempi di azioni eque per il clima a livello locale abbondano per fortuna. Per coltivare davvero il nostro futuro comune dobbiamo sfruttare il potere delle città rendendo le luoghi in cui la democrazia può fiorire, in cui si può vivere in armonia con la natura e cercare di agire in solidarietà con le generazioni future. Con questo messaggio e con le dichiarazioni adottate nell'ambito dell'Assemblea annuale di Climate Alliance Energy Cities si è concluso l'evento internazionale Grafting City in Cultivate a Common Future che ha portato a Modena oltre 400 rappresentanti di città e organizzazioni da 40 diversi paesi. Un meeting che porta avanti tematiche importanti per un futuro che deve essere comune, come ha sottolineato l'assessore all'ambiente del Comune di Modena, Alessandra Filippi. L'importanza di essere all'interno di queste reti, come vi dico in generale, è quello al di là del confronto su quelle che sono le politiche locali che ne vengono fatte singolarmente all'interno di contesti diversi perché poi le reti, come dire, le città dei renti sono davvero in tutta Europa. È un appuntamento dove anche tante culture, tanti approcci sono molto diversi rispetto al tema e sarà proprio importante capire anche le differenze. C'è ancora pochissimo tempo per candidarsi alla diciottesima edizione del corso per volontari della cooperazione internazionale a Modena. La scadenza dell'avviso di selezione è stata prorogata lunedì 30 ottobre alle 12, ci rimangono solo pochi posti disponibili e questo è l'invito a partecipare di chi ha già seguito il corso. Io sono Simona e il corso di cooperazione internazionale di Modena è stata un'esperienza molto ricca sia a livello personale ma anche a livello professionale e credo che sia uno dei corsi meglio organizzati sul territorio italiano. La relazione 2023 sullo stato delle regioni e delle città europee è il nuovo punto di ripartenza ideale per il meeting 2024 che si terrà a Mons in Belgio. La relazione annuale sintetizza le opinioni degli enti locali e regionali, quindi anche dell'Emilia Romagna e delle sue città, sulle questioni chiave che riguardano i cittadini in tutta l'Unione Europea. La 157esima sessione plenaria del Comitato Europeo delle Regioni ha portato a dieci raccomandazioni che spaziano in diversi argomenti centrati anche sulla revisione del bilancio a lungo termine dell'Unione Europea e sulle politiche di coesione che sono comunque al centro dell'agenda del Parlamento Europeo. Il meeting Cohesion Alliance, centrato sul tema lezioni apprese dal Fondo di Resilienza e Recupero per la Savaguardia e un approccio locale nella politica di coesione, ha dato comunque segnali molto positivi dal 1994, la missione del Comitato delle Regioni è di rappresentare e promuovere gli interessi degli enti regionali e locali nel processo decisionale europeo. Il centro Europe Direct, che ha sede nella piazza centrale di Modena, in piazza Grande, al piano terra dello storico palazzo comunale, ribattezzato Galleria Europa non a caso, è il punto di accesso per ottenere tutte le informazioni, i dettagli e per conoscere meglio le procedure di accesso anche ai finanziamenti dell'Unione Europea.